L'obiettivo della soprintendenza dell'Aquila e della soprintendente Alessandra Vittorini fare terrorismo psicologico, fare politica. L'assessore all'urbanistica Daniele Ferella spara a zero contro la soprintendenza dopo la notizia arrivata due giorni fa della sospensione in autotutela da parte del Tarabruzzo della delibera del Consiglio Comunale numero 21 dell'11 aprile scorso che approvava in modo definitivo la variante alle norme tecniche d'attuazione del PRG per le frazioni. Una norma contro la quale avevano sollevato dubbi e contraddizioni anche le associazioni civiche, culturali e ambientaliste e l'Istituto Nazionale per l'Urbanistica dell'Aquila che preoccupati per il varco che le modifiche avrebbero aperto alle demolizioni e allo stravolgimento dell'assetto urbano e storico dei centri storici hanno a loro volta consegnato al Tribunale dell'Aquila una diffida. Insomma la battaglia si fa dura. Il governo del territorio spetta al Comune dell'Aquila, non spetta alla soprintendenza soprattutto nei casi in cui non ci sono vincoli diretti sugli edifici. La soprintendenza ha bloccato la ricostruzione e ha bloccato l'opportunità di rilanciare i nostri centri storici con quella che era l'occasione di poter variare le destinazioni d'uso commerciale e artigianale. Ieri abbiamo approvato in giunta la trasmissione al Consiglio Comunale del ritiro in autotutela di tutto il procedimento, non solo la parte di sospensiva concessa dalla soprintendenza quindi abbiamo ritirato tutto l'iter riportando le norme tecniche a quelle che erano quelle del piano regolatore nel 1975, cambiate nel dicembre 2016. Quindi viene bypassata anche la delibera approvata appunto nel 2016? Assolutamente sì, anche perché è l'unico modo che abbiamo oggi per permettere alle persone di mandare avanti la ricostruzione delle proprie case in maniera sicura. Perché dite che questo ricorso è sbagliato? Diciamo che è sbagliato per alcuni motivi abbastanza semplici. Un organo dello Stato non fa mai un ricorso contro un altro organo dello Stato su competenze che non gli appartengono. La soprintendenza deve parlare delle situazioni sui quali ha titolo a farlo, non sul governo del territorio.